Il sindacato pensionati di Piombino si sta muovendo in una direzione precisa, e cioè quella di unificare le leghe più piccole come la Lega Spi di Riotorto, creando un soggetto unico, più forte, efficace e rappresentativo. Se noi abbiamo in piccoli territori come può essere il comune di Piombino, una frammentazione di questa nostra forza, l'efficacia credo che sia minore. Allora abbiamo pensato di mettere insieme le due leghe in modo che c'è un soggetto unico, parla dopo aver fatto tutti i passaggi democratici all'univoce, è rappresentativo di una bella fetta di popolazione, riesce anche a migliorarsi credo in qualità, perché nonostante che ogni volta che ci andiamo abbiamo fatto riunioni insieme fra le leghe, per una cosa è fare le riunioni in maniera divisa o due soggetti che possono portare due idee diverse, è una cosa, è un soggetto che pur nella diversità ma nello stesso organismo discute e poi lavora una linea comune da portare avanti. Le leghe si stanno assottigliando, si arriverebbe fra qualche anno avere una lega che rappresenta un nucleo piccolino anche se di qualità, ecco allora stando insieme si rimane in vita un pochino più forte. Un modo per incentrare con determinazione è il confronto alla negoziazione a livello locale che incentri l'attenzione sul benessere degli anziani ma anche delle famiglie, mantenendo quanto già conquistato, anche se in un'ottica di tagli come quella attuale. Non parliamo solo e esclusivamente di pensionati, ma parliamo di contrattazioni sociali a livello generale, parliamo di asilinito, parliamo di assistenza sociale che molte volte è l'anziano che ha bisogno di assistenza, però è la famiglia che si fa carico, di conseguenza avendo mantenuto tutto quello che era precedentemente conquistato ci abbiamo fatto ad avere ulteriori 2 euro dall'amministrazione comunale, mi sembra da 38 siamo passati a 40, ora sulla cifra hanno ulteriori 2 euro da investire nel comune nel sociale, pro capite per ogni cittadino. Occorre un'assistenza preventiva per prevenire proprio mali peggiori e poi sono i trasporti, sono i luoghi dove potete passare un po' di tempo e poi noi non ci occupiamo soltanto delle gestioni o dei problemi che riguardano gli anziani ma poi parliamo anche degli altri problemi che possono problemi anche nostri, i nostri nipoti che vanno a scuola e che non hanno i mezzi di trasporto, le hanno limitati o pagano troppo, se hanno le menze di qualità o non di qualità o pagano troppo sono poi anche problemi nostri. Ritengo che il ruolo delle donne nello SPI sia molto importante, è fondamentale, ci sono le donne ormai in tutte le leghe, abbiamo anche una lega dove la segreteria è composta dalla capodonna che è capolega e tutta la segreteria, i tre componenti della segreteria sono tutte donne. Poi abbiamo capolega donna all'isola d'Elba, qui a Piombino nella lega di Salivoli è un'altra donna che è capolega, abbiamo fatto dei corsi anche a livello provinciale fatti dal regionale dove sono uscite le capacità e le potenzialità di tante donne e quindi anche in vista del prossimo congresso riteniamo di avere delle donne adatte anche per un ricambio e portare un contributo notevole delle donne. A Piombino, proprio in questi giorni, per la seconda volta nel 2012, sono state avviate le procedure per lo spegnimento dell'alto forno. La Lucchini resterà ferma un mese e 1.400 dipendenti si troveranno in ferie forzate o in cassa integrazione. Qui stiamo vivendo una situazione drammatica, proprio in questi giorni siamo lì a fare grandissime manifestazioni e concertazione con la regione e con il governo perché si possono salvare queste fabbriche che sia una buona cultura ma è quella che ci ha dato ricchiesa, ci ha dato pane fino ad oggi e anche se c'è da parte dell'amministrazione, da parte di tutti noi, la voglia e anche il lavoro per riorganizzare un qualche cosa di alternativo occorrono anni. Ora si vive una siderurgia e se dall'oggi al domani chiude qui ci troviamo proprio a zero in maniera completa dall'operaio che lavora là dentro all'avvocato che fa le cause perché qui ci va, c'è l'economia, la cenerano questi stabilimenti. Che il contratto di lavoro non fosse una merce, così come una merce non è il lavoratore pensavamo che fosse cosa già acquisita Invece alla fine del 2012 ci troviamo ancora a dover difendere l'uno e l'altro gli uni e gli altri lavoratori e contratto di lavoro soprattutto quando il contratto di lavoro diventa separato e soprattutto quando il contratto di lavoro separato è stato negato dai lavoratori stessi Il contratto è stato respinto dal 70% dei lavoratori consultati su tutto il territorio nazionale così ancora una volta a perdere il valore democratico del voto espresso dai cittadini lavoratori Ecco perché ci troviamo a Firenze sotto le finestre della prefettura dove la sanità privata, case di cura, centri per disabili, sciopera e presidia in questa manifestazione proclamata dalla funzione pubblica della CGL Dunque ancora si parla di contratti separati? Purtroppo sì, purtroppo sì, non tenendo conto del valore e dell'opinione dei lavoratori che lavorano all'interno delle strutture è stato firmato un contratto separato per le strutture, residenze sanitarie disabili, RSA cooperative senza tenere conto della consultazione dei lavoratori che al 70% a livello nazionale hanno detto di no a questo accordo e prosegue comunque l'iter Un'azienda, ora parlo del territorio fiorentino ha dichiarato ai delegati che per lei la direttrice generale avrebbe applicato questo contratto a partire dal 1 gennaio 2013 quindi non tenendo più conto dei delegati CGL perché non sono firmatari di quel contratto e neanche dei lavoratori questo è grave anche perché, ripeto, sia nell'azienda ma in tutte le strutture i lavoratori hanno votato no a quello accordo perché è peggiorativo, è peggiorativo da un punto di vista economico di indennità e c'è anche una discriminazione fra chi viene assunto dopo il 1 gennaio 2013 andando ancora di più a peggiorare le condizioni quindi è un capolavoro di mancanza di democrazia perché non solo non si tiene conto dell'opinione di chi lavora in queste strutture gli vengono peggiorate le condizioni economiche ma non si tiene, cioè si va a peggiorare ulteriormente le condizioni di chi dal 2013 sarà assunto Tu sei stato licenziato? Sì, sono stato licenziato per mansioni che comunemente svolgo e per mie competenze professionali e molto pretestose il fatto è che fossi anche delegato sindacale in questo momento in cui sta passando questo contratto dalle 36 alle 38 ore settimanali con tutti i risvolti che ha dal punto di vista sia dell'abbassamento della paga base che l'inquadramento dei livelli quindi i calcoli sulle pensioni e del TFR e proprio il giorno dopo al quale io sono stato licenziato la direzione ha annunciato che voleva applicare questo tipo di contratto Quindi eri in qualche modo un ostacolo? E' certo perché in questo modo non c'è un confronto di tipo sindacale in azienda e anche tutti coloro che un domani si mettono nell'ottica comunque della democrazia sindacale corrono lo stesso rischio specie dopo tutto il discorso sull'articolo 18 e le misure che sono passate su questo argomento negli ultimi tempi Io ero delegato di un'RSD privata che vuole applicare questo contratto e chiaramente dietro a questo esempio siamo tutti licenziabili perché se si viene licenziati per mansioni che fanno parte della propria professionalità da un momento a un altro questo è il rischio che si corre purtroppo tutti E quindi adesso tutto è finito oppure tu inizi un'avvertenza, una causa? Certamente iniziamo un'avvertenza perché il sopruso che ho subito non deve passare inosservato e vedremo come va a finire Quindi anche il servizio al cittadino, al paziente in questo caso, cittadino-paziente viene un po' meno? Certo, sono strutture residenziali e sanitarie Se noi abbiamo delle strutture qui a Firenze che hanno chiuso i parenti e i genitori di questi ragazzi concordano con noi con il fatto che non si tiene conto né dell'utente né di chi lavora all'interno di queste strutture Ancora una volta quindi il welfare viene meno? Ancora una volta il welfare viene meno, sì Ancora una volta il welfare viene meno, è un'avventura di queste strutture Ancora una volta il welfare viene meno, è un'avventura di queste strutture Ancora una volta il welfare viene meno, è un'avventura di queste strutture Ancora una volta il welfare viene meno, è un'avventura di queste strutture Ancora una volta il welfare viene meno, è un'avventura di queste strutture Ancora una volta il welfare viene meno, è un'avventura di queste strutture Ancora una volta il welfare viene meno, è un'avventura di queste strutture Ancora una volta il welfare viene meno, è un'avventura di queste strutture